Siamo alla linea allo studio. Sì, grazie. Noi torniamo a parlare di emigrazione, di ospitalità ai minori. Un esempio arriva da Mormanno, dove è stata inaugurata la casa di accoglienza Stella del Mattino. Ce ne parla Antonio Liotta. Io sono convinto che noi dobbiamo passare dalla cultura dello scontro, dalla cultura della intoleranza, della indifferenza, alla cultura dell'incontro. Ecco, sugli immigrati si costruisce la cultura dell'incontro. Capisco, posso anche capire un po' alcuni che hanno paura, ma la paura non è segno di maturità. Noi dobbiamo andare oltre la paura. Andare oltre la paura è il messaggio forte del Vescovo di Cassano. No ai muri, agli steccati, sia ai ponti, come dice Papa Francesco, per una società più solidale. E' da questa spinta che nasce la casa d'accoglienza Stella del Mattino a Mormanno, una struttura che ospita già 52 minori non accompagnati. In Calabria sono arrivati con gli ultimi sbarchi al porto di Corigliano, partiti dal Nord Africa e salvati nel canale di Sicilia. Qui, in queste stanze, hanno trovato ospitalità, un letto, un pasto caldo, ma anche un corso di lingua e una serie di attività durante tutta la giornata. Nell'arco della giornata loro passano la prima parte, nella mattinata, per un corso di scolarizzazione, alfabetizzazione lingua italiana, che è fondamentale nel loro percorso, comunque, anche se fosse solo di transito, però in questo periodo di permanenza qui. Loro hanno la possibilità di utilizzare un campo annesso a quella struttura, un campo di calcio e anche un allenatore si è reso disponibile per garantire loro questa attività sportiva. Messa in piedi grazie alla collaborazione tra Diocesi, Fondazione Rovitti e la cooperativa Ollus Medical Center, la casa d'accoglienza Stella del Mattino ospiterà i migranti fino ad aprile, quando saranno ultimati i lavori di ristrutturazione di un'altra struttura, a Francavilla, un nuovo centro dove promuovere i valori dell'ospitalità e dell'integrazione. Torna come ogni giovedì la...